Allora se dobbiamo iniziare a parlare di calcio e di campo sapete che quando succedono le cose che sono successe a noi se avessimo vinto noi oggi con l'autogol andava bene lo stesso perché quando si crea queste situazioni bisogna sbloccarle quindi la partita di oggi è la classica partita che devi invertire la marcia fare gol da parte gli occhi e il naso faccio i complimenti a Vosso Girardi che secondo me ha veramente giocato con magari dei limiti, degli errori ma ha giocato quindi non si è presentata qui assolutamente per cercare di portarvi a un punto ma è venuta qui per portarvi a tre punti è una società a modello che la definisco è una società espressa dal piccolo centro dell'Alto Molise che mantiene la categoria da anni e gli fa onore assolutamente quindi da questo punto di vista vi dico subito che questo è quello che avevamo bisogno poi bisogna capire se vogliamo parlare di calcio o di estracalcio io direi che il calcio lasciamo la salvezza di oggi bene a me preme sapere quella importante per la valenza politica è la gestione contro Sardiano i cori contro Sardiano la frattura che avete creato con la curva e con la piazza in generale sono sintomi di un malessere di quale non so quali medicine possono esserci allora il suo pensiero il mio pensiero è questo scusi anche il destino di questo direttore sportivo che l'ha messo in viso a tutti allora intanto cominciamo a capire che per poter dare la medicina bisogna capire qual è la malattia oggi chi dice che il Chieti aveva difficoltà di gioco o comunque di risultato e adduce al direttore Sardiano che ha sbagliato mi deve spiegare il direttore Sardiano che ha fatto questa squadra sbagliata con i giocatori sbagliati con i mister sbagliati perché dopo il girone di andata eravamo lassù ma dovete parlarmi calcisticamente quindi io attendo che lei mi dica per che motivo noi eravamo lassù 17 partite di fortuna non ci credo evidentemente c'è stato un allenatore che ha spremuto dal gruppo modesto il massimo che potesse essere no, secondo me no il successore il successore dal 7 gennaio evidentemente non è riuscito a spremere da questo gruppo modesto è sovravalutato all'inizio non è riuscito a risprimere quando il successore era riuscito a fare secondo me la domanda avete anche commesso errori devastanti tra dicembre e gennaio quando sono pachini Giambò che non era il regista per cui andava via vediamo qua quale regista è arrivato è arrivato un 100 dati che è fortunato da un mese è andato via a Bardafante Spinelli e Postiglione ora è vero che per Postiglione una forza contrattuale non c'era per tenere però lo sostituto all'altezza dovrebbe essere acquistato quindi questo impoverimento della squadra modesta già modesta di per sé di subrucco questo impoverimento ha creato lo spazio di stile ma io la ringrazio che lei mi dice che la rosa è modesta perché mi rafforza ancora più il mio pensiero che voglio capire con una rosa modesta di giocatori inadeguati abbiamo considerato Mauro Chianese un fenomeno noi abbiamo un fenomeno perché di fronte a 28 ragazzi inadeguati è arrivato al terzo posto se questo significa parlare di calcio non posso parlare di calcio con voi ma è tutto me accaduto no io prendo atto di quello che lei mi dice rosa inadeguata scarsa che non va bene il mister gli ha spremuti ma non sono delle arance i ragazzi assolutamente tutti i mister mi faccia replicare ma mi faccia replicare mi faccia replicare si ma se non ha compreso la domanda e allora si vede che anche io non capisco le cose cosa le devo dire voglio dire che il pianese è spremuto nel senso di spremare di ottenere da un gruppo ipervalutato qualcosa che è successore non è riuscito ad ottenere ma come mai poi con le mosse sbagliate ma come mai secondo lei gli altri mister che ci sono in queste categorie in questo girone non sono capace a fare la spremuta d'arancia a spremere tutte le altre società hanno tutti i fenomeni hanno tutti i giocatori erosi d'eccellenza per cui i giocatori giocano da solo quindi secondo me se vogliamo parlare dobbiamo dare merito perché se lei mi dice che è stata fortunata le prime sei partite stiamo parlando di un periodo dove la fortuna può anche esserci stata al di là delle bravure dei giocatori perché è un periodo breve e tutti i periodi brevi non possono essere presi di esempio come statistica ma se qualcuno mi dice che il girone di andata dopo 17 partite noi avevamo la squadra inadeguata abbiamo fortuna e tutti i meriti che noi eravamo lì era di Mauro Chianese mi spiace ma sta veramente in questo momento offendendo i giocatori la società e i dirigenti quindi non l'accetto questa situazione poi adesso se vogliamo capire le responsabilità e cosa è successo dopo possiamo parlarne ma è inaccettabile una cosa del genere è inaccettabile 17 partite non sei lì a caso non c'è la fortuna c'è il lavoro c'è il lavoro del mister dei giocatori del direttore mio e di tutti quelli che sono all'interno di questa società quindi non stiamo parlando di una classifica amica stiamo parlando vado a vedere dove eravamo dopo 17 partite poi adesso parliamo del girone di ritorno il girone di ritorno mi prendo io la responsabilità di aver cambiato il mister e chiedo scusa di aver sbagliato perché sono andato a prendere un mister più tecnico che poteva insegnare molto di più visto che mi sembra di capire che mister Chianese è buono a fare la spermuta d'arancia ma c'è una contestazione spaventosa che non si gioca mi permetta mi permetta c'era una contestazione spaventosa che non esprimavamo niente ok quindi io da presidente vado a cercare un mister il quale mister e questo i tifosi lo dicono che sono presenti ai campi di allenamento gli hanno fatto tutti i complimenti perché non si era mai visto qui un mister e un vice che insegnava e cercava alla squadra di far giocare e cercare di migliorare quindi il mio è stato un errore d'amore aver dare una persona più capace non ci sono riuscito perché probabilmente questo gruppo ha avuto delle difficoltà di assimilare questi concetti è inutile negarlo poi si viene a creare invece la situazione e questo voi lo sapete dove a un certo punto il nostro giocatore perché è inutile nasconderci è andato a criticare i suoi compagni e quindi poi c'è stata un po' la rottura dello spogliatoio che è accennato anche il mister creando dissapori tra i ragazzi e si è creata un po' questa spirale contessa sei presente negli spogliatoi per sapere quello che succede me lo dica io mi passo sull'intervista di Farl dopo sola ha solo detto che occorreva tempo e che non c'era tempo per assimilare i nuovi concetti ma voi avete ascoltato l'intervista ma non eravate presente nello spogliatoio quando Farl parla con i suoi compagni Farl si è poi scusato con tutti perché probabilmente anche lui come può capitare anche a me di dire una parola sbagliata cercare di dire dei concetti poi non escono quindi con Farl è ritornata la calma la tranquillità perché anche il ragazzo non solo per l'intervista ma anche all'interno dello spogliatoio ha creato qualche malessere adesso l'abbiamo risolto fortunatamente però questa è la successione temporale dei vari fatti perché continua a dire che anche la contestazione in questo caso non di Farl ma di alcune testate o dei tifosi che i nostri under sono inadeguati torniamo al concetto di base con gli under inadeguati con ragazzi inadeguati noi siamo arrivati lì avevamo Postiglione perfetto ma non è che Postiglione fa tutta la squadra è un under centrale uno al posto di Postiglione sta giocando un certo Marco Vesi il quale ritengo che senza voler esagerare sia almeno pari di Postiglione di conseguenza dal punto di vista tecnico è andato via un bravo ragazzo e gli faccio gli auguri per la sua carriera ma è stato sostituito in quel ruolo in un ragazzo che perlomeno è pari a lui quindi torno a dire più voi caricate che la squadra è inadeguata più mi dovete dire come abbiamo fatto ad essere lì perché non è la fortuna i fatti che hanno provocato purtroppo questo crollo verticale ve l'ho detto quando si è andata a giocare male due o tre partite si è cominciato a non segnale non vi voglio ricordare che quanti gol abbiamo fatto nel girone di ritorno quante occasioni prendete le singole partite le occasioni che i nostri attaccanti tutti hanno avuto e che hanno sbagliato io ne ho contate 30 andate a vederle e abbiamo fatto forse tre gol quindi allora forse non è un reparto non è un giocatore ma è una situazione più situazioni che si sono venute a creare per cui si è venuta sicuramente ad avvenire una spirale negativa io chiedo scusa per questa mia voglia di dare di più e di aver fatto questo cambio tecnico mi spiace sinceramente di una cosa soltanto di esso grandissimo professionista col suo vice però io sono un uomo che magari non mi conoscete sono molto di carattere io non avrei abbandonato dopo 4-5 partite che non riusciva a trovare il bandolo della matassa e si era andato fino alla fine e avrei detto come il mister che mi ha preceduto ho tirato fuori gli attributi o con le buone o con le cattive io sono venuto qui e qui devo fare bene questa è l'unica cosa che recrimino per dire essere un'ottima persona ha anche dei problemi personali quindi abbiamo con misteriezza un rapporto ottimo però è giusto un minimo di critica a farne e questa è l'unica che posso dirvi Presidente io sono di un avviso leggermente diverso non credo che la squadra fosse diciamo così inadeguata premesso questo lei ha spiegato le ragioni le motivazioni per cui si è arrivato fino ad oggi ad oggi ora questa vittoria può aiutare e ci sono le condizioni perché le varie componenti e quindi un po' tutto cambiente scogliatoio società tifoseria città si possano ricompattare anche per futuro aggiungo solo ancora una cosa per precisione visto che mi parlava di giocatori che sono andati via vorrei che andassi a vedere il minutaggio che hanno fatto i giocatori che noi abbiamo cambiato sostituito per capire quanto è stato il loro supporto nel punteggio nella classifica del girone di andata che ad esclusione di Postiglione che sapete che era il nostro titolare fisso come under gli altri giocatori hanno fatto dei minutaggi irrisori quindi io non ho smantellato nulla io ho semplicemente cambiato dei giocatori per proporne altri per poter avere un minutaggio maggiore e cercare di fare meglio mi sembra che visto che si parlava e ha ragione di un giocatore che non si è ancora espresso che era il play Vincenzo Gatto vogliamo ricordare che abbiamo portato un certo Fabio Castellani quindi quando noi diciamo le cose dovevamo sempre dirle tutte e a livello di under mi sembra che gli under che sono arrivati oggi nonostante sia stata una partita di sofferenza anzi maggior ragione che è stata una partita di sofferenza che sono stati messi alla prova duramente vorrei che qualcuno di voi mi dicesse degli errori che hanno fatto gli under oggi in questa partita non l'errore del colpo di testa a centrocampo che sbaglia e va in fallo laterale non l'errore di un passaggio importante qui parliamo di errori importanti io ho visto un mio giocatore under che nell'area di rigore anziché spazzare la palla si è preso la responsabilità di spostarla e di giocarla e ho visto tante di queste cose allora se il calcio dobbiamo parlarne parliamo quando hanno colpa e sbagliano però dobbiamo parlare anche quando fanno bene questo soprattutto perché sono ragazzi giovani voi lo sapete già dall'anno scorso che io giustifico sempre gli errori dei ragazzi giovani perché è la vita che ci deve insegnare qualche cosa mentre sono molto più contestatore nei confronti degli altri ragazzi tutti perché devono insegnare devono incitare e devono essere intelligenti da capire se l'ander ha bisogno di essere cazziato incoraggiato perché loro sono dei giocatori e loro devono darci una mano quindi ripeto questo era soltanto un fatto che volevo specializzare proprio per questo aspetto di rosa perché più volte si dice rosa 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 però secondo me andava specificato su quella sua domanda che mi ha fatto certo come l'ho detto all'inizio noi non abbiamo bisogno di una vittoria noi abbiamo bisogno adesso di nove vittorie però la prima è sempre quella più importante perché arrivava tutta una situazione non di contestazione perché è giusta come faccia un tifoso a dire che non mi deve contestare se la squadra perde ma ci mancherebbe altro è la prima cosa che è giusto e legittimo che faccia però nel momento in cui si prendono le responsabilità ci bisogno che in società io la mia percentuale il direttore Sartiano la sua il direttore Alessandri ma ce l'ha anche il magazziniere ce l'hanno i ragazzi ognuno ha una piccola parte magari piccola però comunque ognuno ce l'ha perché noi siamo una squadra e si vince si perde tutti assieme io non credo a one man show non esiste il giocatore in campo che ti risolve la partita non siamo non sono almeno io di questa idea quindi il gruppo va sempre davanti a tutti Presidente mi sposto un po' sulle questioni extracampo a livello societale ti faccio tre domande che riguardano comunque la società la prima se sono vere le voci che stai cercando nuovi soci sono uscite alcune notizie se hai avuto contatti con qualcuno poi ti chiedo sulle dimissioni di togno una per volta ti rispondo no con calma non abbiamo tempo non c'è problema rispondiamo a tutto non scappiamo via perfetto allora se voi andate apprezzioni che ho fatto quando sono arrivato a Chieti quindi dovete riavvolgere il nastro un pochettino penso che abbiate sentito che io ho fatto un'affermazione e ho detto questa società voglio far entrare persone affidabili e che mi possano dare una mano e sono aperto a tutto e a tutto abruzzesi e non presentate anche dall'uomo della strada io non mi faccio nessun tipo di pensiero quindi se c'è qualcuno che si vuole avvicinare si mette in contatto con la società si parla e si sente se gli obiettivi che hanno queste persone sono gli stessi che ho io se sono disponibili a fare o non fare un percorso insieme detto questo io mi meraviglio che i giornalisti che siete dei professionisti non verifichiate le informazioni prima di scriverle perché un conto è dire abbiamo dei rumors abbiamo delle informazioni e sappiamo che un conto invece asserire come se ci fossero stati dei contatti o delle situazioni certe io di certo e per parlare di alcune situazioni tale imprenditore distevo neanche lo conosco avete fatto trasmissioni dicendo che io con lui mi ero incontrato avevo parlato avevamo parlato di percentuali io non lo conosco il signore casualmente adesso arriva da parte sua mandetta una smentita che non mi conosce ma io non è che non voglia avvicinarmi a Di Stefano è semplicemente che io se mi avvicino una persona corrisponde al vero io sono il primo che lo dico io non mi devo nascondere ma non è anche giusto che si mandano informazioni quasi che io voglia vendere la società e non essere più a continuare il mio progetto triennare senza che ci sia fondatezza di nulla e che crea scompenso anche allo spogliatoio perché tu non stai giocando ci allontaniamo dal primo posto abbiamo un 1% di possibilità di vincere il campionato perché se la prima e la seconda le perdo non le vinciamo tutte abbiamo l'1% di possibilità perfetto però lo spogliatoio cosa dici? ma il mio presidente abbandona la nave ci abbandona vende la società e questo è il segnale che io devo dare al mio gruppo questo è quello che fa un leader o comunque uno che porta avanti una società quindi anche queste cattive informazioni avete il mio numero di cellulari giornalisti avete il numero della società avete il numero del direttore quindi vi invito e lo feci tempo fa proprio si ricorda Zappacossa le avevo detto a lei la prima volta si ricorda vede che ho la memoria di verificare le informazioni con la società io non sono presente ma sono presente per qualsiasi chiarimento che c'è bisogno o qualcuno della mia società ve lo dà quindi esigo rispetto che se date informazioni le verifichiate o altrimenti dovete usare le terminologie e la grammatica corretta abbiamo dei rumors potete scrivere anche che qui viene platini non c'è nessun problema però dobbiamo utilizzare correttamente la grammatica sulle dimissioni di Poglio vi dico questo vi ho chiesto prima scusa alla città per questo fatto che volevo dare un mister col direttore tecnicamente superiore e non siamo riusciti è sotto gli occhi di tutti quindi nulla di male adesso devo chiedere scusa la seconda volta alla città perché quando io sono entrato collegandomi proprio a questo fatto che ero aperto a qualsiasi imprenditore ho pensato che non conoscendo il territorio potessi avere in società e avvicinare persone che il territorio lo conoscevano e quindi ho avuto l'onore di dare la carica di presidente onorario a Giustino Angeloni che conoscete perfettamente e al dottor Cristian Poglio da parte mia è stato un onore darglielo con che funzione visto che si è andato più volte a discutere qual è la funzione del presidente onorario proporre l'immagine del Chieti e far avvicinare eventi persone situazioni gradevoli in modo tale che il territorio potesse aiutare la società e la società aiutare il territorio questo secondo me può essere compreso da tutti quello che io non comprendo non è neanche la critica che ha fatto Cristian al nostro operato anche se l'ha fatta a livello mediatico poteva criticarlo non era magari tanto elegante era meglio se veniva criticato a quattro occhi in un'altra situazione però lui voleva criticare ha il diritto di criticare il problema non c'è ma sinceramente io presidente del Chieti in un momento di difficoltà sapere che una delle due massime cariche che ho dato sinceramente col cuore la possibilità di rappresentarmi promuovere fa un passo indietro dicendo che non ha ruoli non riesce a muoversi vorrebbe fare delle cose ma non riesce a farle quando mi sembra palese se il dottor Poglio voleva avere dei ruoli voleva fare rilevava delle quote alla società era libero di operare tranquillamente insieme a noi visto che la sua volontà dichiarata non era quella di prendere le quote la sua funzione era un'altra e sinceramente io oggi mi sento deluso e ammaleggiato perché ho tranquillamente l'immagine del capitano Schettino che abbandona la nave quando sta crollando ma vi fosse assicurare che la nave non crolla non si andrà in abissare perché io sono sicuro che il mio gruppo anche se non raggiungeremo ripeto per un per cento è poco sarà difficile il primo posto sono sicuro che faremo bene l'ultima domanda per concludere il discorso societario la contestazione dei tifosi prima che si respira può farvi riflettere per il futuro oppure comunque già adesso possiamo dire che il prossimo anno si partirà comunque da serva per il famoso progetto triennale allora l'unica cosa certa è che il progetto triennale è nato dal fatto che le persone che vogliono fare calcio sanno che non si può fare in 4-4-8 usando questa terminologia non bastano solo i soldi ci vuole competenza organizzazione non voglio ripetermi a dire che quando io sono arrivato a Chieti non ho trovato nulla sono andato veramente a dover ricostruire non da zero da sotto zero tutto 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 e questo l'hanno fatto tutti quelli che lavorano qui con me direttore compreso il direttore è stato preso per fare una funzione di direttore generale e insieme al mister di riferimento anche fare la campagna acquisti l'ho detto mille volte non ho preso un direttore sportivo Sartiano non è un direttore sportivo è un direttore generale che con i mister discute e decide in maniera parzialmente autonoma parzialmente insieme per trovare la strada migliore questa è l'impostazione che io ho voluto dare a questa società probabilmente se avessi avuto due funzioni un direttore sportivo e un direttore generale ci sarebbe stato magari più dialogo ci sarebbe arrivato a qualcosa altro non c'è nulla di male ho deciso di fare così e così ho fatto ma la stessa domanda che adesso lei mi fa se è il prossimo anno è inadeguata perché lo dissi che alla fine del giorno di andata prendo delle tigioni e adesso sarà la stessa cosa alla fine del giro di ritorno in base ai risultati a quello che è stato fatto perché poi faremo anche una conferenza stampa in maniera più specifica per dire tutte le cose che noi abbiamo fatto che il mio direttore ha dovuto affrontare sul territorio problematiche quotidiane che noi non dobbiamo adesso andare a sbandierare perché oggi si vede solo l'aspetto sportivo ma c'è tanto per costruire una società e quindi questa funzione è una funzione importante sull'aspetto di come sarà la società il prossimo anno se l'obiettivo è quello di andare avanti certo che è quello di andare avanti il motivo di fermarsi non lo comprendo anche lì stiamo parlando sempre in continuazione di voler destabilizzare l'ambiente non riesco a capire per che motivo lei oggi mi fa la domanda e mi dice che io a settembre vado via sa che qualcuno mi ha fatto un'offerta da 2 milioni di euro per cedere la società se lei lo sa me lo presenta e dice guarda c'è un business c'è questa persona che le vuole dare 2 milioni di euro per cedere la società e beh allora potrebbe anche farmi vacillare perché nella vita potrebbe anche essere un'occasione quella di avere un business del genere ma se parliamo di cose concrete non di sogni non di fantasie secondo me vale la pena quando c'è un'informazione certa non vederle in maniera distorta cioè cercare dei soci per rafforzare la società non è cercare dei soci per liberarsi della società quindi usiamo sempre l'intelligenza per porre domande e noi torna a dire non adesso perché faccio questa conferenza stampa ma in qualsiasi altro momento voi potete chiedere un appuntamento e loro dico e parlare e non di fare fantasie quindi noi possiamo affermare che il progetto stagione l'obiettivo è diverso con una possibilità dell'intercento però sappiamo che l'obiettivo qual è quello da conseguire faccio un'ultima domanda si 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 ma proprio la risposta è bellissima si parlava tanto di valorizzare i giovani locali nella panchina non vediamo dei giovani locali e ce ne sono ecco avete perfettamente ragione e vi spiego anche le motivazioni e quindi torniamo su questi aspetti estracalcistici noi avremmo dovuto partire con il campo Sant'Anna il suo rifacimento partire con la scuola calcio fare il settore giovanile completo abbiamo a disposizione non abbiamo a disposizione ancora campo e spazi per poter far questo di conseguenza non siamo riusciti a far nascere e andare a cercare sul territorio i nostri ragazzi per poterli poi inserire partendo al settore giovanile e poi anche alla prima squadra oggi le voglio dire non è facile trovare ragazzi sul territorio che vogliano venire perché a parole tutti vogliono venire al chiedi poi io ho delle grosse delusioni perché a casa mia quando uno bacia la maglia forse arrivo da Torino quindi la nebbia mi annebbia un po' i pensieri e mi crea delle situazioni strane però quando uno bacia la maglia fa qualcosa di importante ma quando baciano la maglia ragazzi e poi vanno via uno dietro l'altro alla prima sirena ci rimango anche male perché vanno via vanno via perché probabilmente credono questi ragazzi sono da via e le dico chi sono noi abbiamo trovato qui sul territorio lo sapete di Renzo l'anno scorso alla fine dell'ultima partita mi ha chiesto assolutamente che voleva andare nei professionisti che non vorrei affermarsi con noi sapete benissimo purtroppo per adesso le poche presenze che lui fa la stessa cosa è capitato a De Innocenzo che doveva andare nei professionisti e poi dopo la squadra professionista che l'aveva chiamato poi dopo l'ha girata a una società di serie D sapete benissimo di Postiglione che io ricevevo i messaggi del ragazzo i genitori che venivano in società a pregarci di farlo andare via come se fosse l'occasione della vita allora secondo me dobbiamo anche capire che il calcio ha dei tempi e dei modi se questi ragazzi ovviamente vengono qui io c'ho un progetto e a certo punto soltanto perché li propongo di andare ripeto non voglio denigrare nessuno di andare a giocare in primavera della Monza mi va a togliere uno degli undici tasselli che per me era importante perché comunque Postiglione visto che aveva fatto bene finiva la stagione poteva andare al Monza al Milan poteva andare dove voleva io ho voluto lasciare libero un ragazzo e ho danneggiato il mio progetto mi spiace ma il Pescara praticamente ci ha comunicato questa cosa qui in maniera fredda senza darci dei sostituti mi sarei aspettato per cortesia che mi dessero non un aiuto mi dessero guarda io ho delle motivazioni che questo ragazzo lo devo valorizzare oggi perché mi hanno telefono una settimana prima di quando dovevo andare via e non a giugno guarda noi ci siamo andati da fare guarda abbiamo questi ragazzi li puoi vedere quindi mi spiace dire ma la collaborazione col Pescara si è interrotta e penso definitivamente perché io sono una persona che sinceramente anche lì sono stato molto tranquillo perché avrei potuto parlare e fare alla fine ho capito che col Pescara non si potrà collaborare in futuro perché una società che non è sensibile e far attenzione a questi progetti sapendo che le serie D vivono di Under mi spiace ma mi spiace che Daniele che sarà presidente sarà anche una brava persona saranno i suoi collaboratori non lo so però comunque vi dico tranquillamente che non ci potranno essere in futuro possibilità di lavorare perché questo atteggiamento qui non è un atteggiamento di società che insomma oggi capita a me un'esigenza domani poteva capitare a loro quindi abbiamo inciampato in queste situazioni e quindi mi piacerebbe che la mia società e i ragazzi che giocano da me avessero un attaccamento alla maglia vera reale e facessero dei sacrifici per fare questo e non che fossero probabilmente per colpa di terze persone consigliate male ma solo il Sant'Anna è un mio assiduo il Sant'Anna è uno dei tanti cantieri di questa città che ha sta letto addosso di cantieri che non partono se partono vengono poi interrotti a metà abbiamo rilasciato le fideiussioni abbiamo fatto tutto il percorso direttore per poter finalmente iniziare questi lavori e se passatemi un termine magari molto dozzinare se Dio ce lo concede riusciremo finalmente a maggio a giugno a partire a fare questi lavori qua perché vi dico noi ce la mettiamo tutta non posso neanche dire vi dico la verità che la certo non posso dire che l'amministrazione ci ha remato conto assolutamente né opposizione né maggioranza loro ci vogliono aiutare quindi che sia chiaro non ho trovato ecco da questo punto di vista nessuno che non voleva però sia chiaro